Quanto è importante il turismo verde oggi in Italia? Moltissimo, perché fa parte di quel turismo sostenibile, di quel turismo lento, di quel turismo dove si possono vivere delle esperienze con la natura. Ed è veramente molto importante. Biella è assolutamente una caratteristica, perché a tantissimo verde bisogna avere la capacità di poterlo mettere a reddito, cercare di offrire delle esperienze turistiche, perché il turismo sta crescendo in tutta Italia. Quest'anno, il 23, sarà l'anno del sorpasso del 2019, l'anno record prima della pandemia. Forza bellezza, avete le carte in regola per poterlo mettere. Grazie Ministro. Grazie.